Dopo gli incendi che avvengono in montagna, il terreno si muove e quindi se sotto quell'area c'è una strada, come nel caso della zona della Val Zoldana, la strada provinciale 251, lì è necessario un intervento da parte di Veneto Strada per mettere in sicurezza la strada che sarà piuttosto complicato a quanto mi dico. Dei tre incendi divampati nella notte tra Siagore, Coaroterme e Sofranco, in mattinata rimanevano attivi ancora i focolai nel Bellunese. Veneto Strada ha confermato la chiusura a tempo indeterminato della strada regionale 251 della Val di Zoldo. Fino al raggiungimento delle condizioni di sicurezza la strada non sarà transitabile tra la rotatoria di Igne fino a mezzo canale. Nel pomeriggio l'azienda sanitaria fa sapere che l'allarme è rientrato. Vengono meno infatti le limitazioni al consumo di acqua diffuse nella giornata di ieri per il comune di Ponte nelle Alpi. Nei prossimi giorni verranno eseguiti ulteriori campionamenti. Un incendio, quello di Sofranco, che fa salire a 48 il numero di roghi divampati in Veneto nel solo mese di marzo. Il mese di marzo si caratterizza in Veneto per essere il mese più a rischio per gli incendi boschivi, questo da sempre in base alle statistiche degli ultimi 40 anni. È stato un periodo impegnativo, non il peggiore in assoluto del Veneto. Secondo le nostre statistiche, nella maggior parte, tra grande maggioranza dei casi, la causa dell'incendio è l'uomo. In alcuni casi è doloso, in alcuni casi è colposo, ma nella gran parte dei casi l'origine è umana. L'intervento sempre più tempestivo ha ridotto gli incendi boschivi di almeno il 50% negli ultimi 40 anni, conferma l'assessore Bottacin. Sofranco però ha pagato la siccità e la difficoltà delle operazioni per la conformazione stessa della Val di Zoldo. La notte poi i Canadair non possono volare. Risposte si attendono ora dall'inchiesta aperta in procura. Domenica il ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico Dincà, era nel bellunese. C'erano delle risorse per quanto riguarda la possibilità di utilizzare questa strada anche come via di uscita, nel caso vi espossero delle difficoltà per l'Olimpiadi. Mi auguro che si riapra un ragionamento nei confronti della viabilità per la 251 per la sua messa in sicurezza, dove chiaramente è necessario poter lavorare su delle infrastrutture che abbiano una tenuta completamente diversa e quindi parliamo di galleria.